Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Questo libro è il risultato di una ricerca che è stata condotta dall'Università di Bari e guidata dall'Università di Bari e insieme ad altre sedi universitarie, quella del Salento e poi l'Università di Messina. Cerchiamo di fare il punto sullo stato dell'economia e della società meridionale e soprattutto su come le classi dirigenti interpretano la situazione contemporanea del mezzogiorno. Quello che viene fuori è che in qualche maniera a preoccupare più che la condizione di persistente divario del mezzogiorno rispetto al centro-nord e quello che si registra è una mancanza da parte della classe dirigente di una visione che in qualche modo sia all'altezza della sfida, che in qualche modo ci aiuti ad uscire dalle secche della condizione economica e sociale contemporanea. Insomma, quello che ci sembra evidente è che le classi meridionali tendono a riproporre delle ricette che sono state già sperimentate e che non hanno prodotto esiti soddisfacenti. Più che per la scrittura, diciamo, noi siamo ricercatori, io e coloro che hanno contribuito al libro e per noi la scrittura è un momento, potremmo dire, abbastanza marginale rispetto alla curiosità per i fenomeni sociali e quella è la motivazione che ci guida soprattutto. Quindi la voglia di scoprire le pieghe della società e di indagare sul senso dei processi che ci riguardano. Poi la scrittura, diciamo, viene dopo e quasi, diciamo, un mezzo, semplicemente un mezzo obbligato per esprimersi di tutto qui.